Matilde Villa che ha solo i 19 anni è stata scelta dall'NBA femminile. Quest'estate andrà a giocare ad Atalanta. Sono una ragazza normalissima che si diverte con il basket. Alessandra Barone. Il sogno è già nel nome della squadra che l'ha scelta, Atlanta Dream. Un'emozione fortissima e sono felicissima di questo riconoscimento. Matilde Villa, 19 anni, Brianzola, ora playmaker alla Rayer Venezia, quarta italiana di sempre ad approdare nella WNBA che ogni estate testa i migliori talenti al mondo. La prima a farcela senza passare dal college. Se la vedrà con giocatrici come Kathleen Clark, la nuova fidanzata d'America, 22 anni, star dello sport che tra sponsor e media muove già soldi come una multinazionale. Ma questa è un'altra storia, Matilde resta con i piedi sul parquet. Mi sento una ragazza normalissima che si sta divertendo a giocare e tutto quello che mi sta succedendo non ci credo ancora. Magic Matilde, esordio in Serie 1 a 14 anni, due anni dopo già in nazionale. Oggi in vetta al campionato con Venezia, fenomeno senza essere una gigante. È alta 1,72. Ho iniziato perché andavo sempre a guardare mio fratello con mia sorella e nei momenti morti andavamo sempre in campo a giocare. E quindi da lì è stata passione subito. E pensare che era indecisa se fare la ballerina. L'hanno convinta i suoi idoli, Papa Paolo e il campione dell'NBA, Stephen Curry. Quando lo vedo mi trasmette proprio divertimento, poi è un giocatore fortissimo. Precisione e velocità nelle sue mani. Il futuro del basket azzurro, Matilde, è pronta per il sogno americano. Il basket azzurro.